Solo un breve aggiornamento perché la situazione rispetto a ieri è invariata, siamo sempre sui supporti in area 13.000 e la situazione rimane su questo, il DAX a due ore sintetizzata da queste tre fasce che vedete, la resistenza in area 13.3, l'attuale trading range in cui ci troviamo tra 13.000 e 13.150 e poi la fascia di supporto più immediata che è appunto quella che stiamo testando in queste ore, non mi sorprenderebbe se ci fosse un dip qui tra 12.9 verso la volatility stop line della media 200, anche perché quello che se andiamo a vedere in queste ore si sta sviluppando è un accenno, non è però una configurazione di breve ribassista che diventerebbe operativa alla rottura di 12.9 e 60. Quindi ci si potrebbe anche attendere un test appunto della volatility stop line. Quindi la giornata di oggi non ha risolto i dubbi che avevo presentato ieri, i dubbi relativi alla tempistica di possibile prosecuzione del trend di breve, ricordo che è un trend di breve, che è in atto dai primi del mese, quindi da meno di due settimane, un trend di breve rialzista che ha portato al recupero di area 13.000. Questo per quanto riguarda il DAX. L'America in questo momento è leggermente sotto pressione, ieri ricordavo sul Nasdaq, questo è l'ETF sul Nasdaq, ricordavo ieri, consigliavo di non acquistare tecnologici a questi livelli, è iniziato uno storno, non sappiamo dove può portare perché lo spazio al ribasso c'è e questo è il problema di quando abbiamo questi movimenti verticali che poi rendono il tutto più instabile. Quindi spazio in giù ce ne lo vediamo, il minimo sarebbe appunto il test di quest'area di supporto che è ancora più in basso. Sta andando sotto pressione il Nasdaq proprio mentre parliamo, sono le 8 e mezza, sono le 20 e 30, manca ancora un'ora e mezza la chiusura, quindi può succedere un po' di tutto. Quindi oggi correzione per tutti gli indici anche per il Russell, vediamo il Russell, anche il Russell sta segnando un meno 0,9 e quindi niente, la fase è questa per quanto riguarda gli indici azionari. Dei nostri titoli, giusto per dar seguito a quanto avevamo detto, vi ricorderete, chi segue è stato il video, probabilmente quello del 5 ottobre, dove davo per possibile un rally verso le resistenze e in particolare verso la media a 200, questa è intesa San Paolo, il rally c'è stato, debole, perché come vedete abbiamo colmato un po' la distanza tra volatili di stop line e media a 200 a metà. Questo è a testimonianza del fatto che quando si fanno queste operazioni contro trend bisogna poi essere sempre consapevoli che appunto si sta andando contro la tendenza principale. Il titolo oggi ha perforato la volatili di stop line, quindi segnale da confermare, però non è un bel segnale. Un discorso diverso per generali che invece volevo segnalare che stessa situazione tecnica è riuscita ad arrivare alla media a 200 che comunque ha fatto da resistenza e in questo momento è incanalata tra volatili di stop line che fa da supporto, media a 200 che fa da resistenza, questa è una zona neutrale che però è sempre molto utile monitorare perché dà idea l'uscita da questa specie di imbuto in cui poi si infilano i prezzi in queste situazioni generalmente dà indicazioni sulla possibilità di un movimento di qualche punto percentuale, quindi io seguirei generali perché potrebbe avere degli sviluppi interessanti. Va bene, oggi video un po' più breve, solo un aggiornamento, non ho novità sulle dirette, sono in attesa della comunicazione di TradingView sulla messa appunto della funzione di diretta per Chrome perché a causa di un bug appunto avevamo quelle disfunzioni che avevamo verificato la scorsa settimana. Appena mi comunicheranno che la diretta è di nuovo operativa ve lo farò sapere così poi cercheremo di riprendere, di fare qualche altro appuntamento pomeridiano. Va bene, è tutto per oggi, scrivetemi nei commenti eventuali richieste o se avete dei titoli interessanti da segnalare e grazie per l'attenzione, ci aggiorniamo a domani.